Giornata da ricordare per la marineria italiana che con il varo del Gianni M dell'Ustica Lines diventa punto di riferimento per i mezzi veloci. Un evento per la Sicilia che ha il primato dell'intera progettazione e realizzazione dell'aliscafo più grande del mondo. Personalità delle grandi occasioni erano presenti ieri a Trapani all'interno dei cantieri HSC. Dal sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la senatrice Simona Vicari, madrina del varo, al presidente della regione Rosario Crocetta e all'assessore regionale alle infrastrutture Giovanni Pistorio, oltre alle massime autorità civili, militari e religiose provenienti da tutta la Sicilia. Il Gianni M che con la sua capacità di 350 posti a sedere suddivisi in quattro saloni dislocati su due piani non è solo l'aliscafo più grande del mondo, ma sarebbe anche il più silenzioso, più leggero, più veloce, più sicuro e affidabile, con minori consumi e offrirà ai passeggeri maggiore comfort rispetto ai tradizionali mezzi veloci, ci evidenzia Lustica Lines, grazie agli studi compiuti in sinergia con l'Università di Palermo e con i più importanti istituti di ricerca idrodinamici. Il natante, che può raggiungere la velocità di 35 nodi, ha coinvolto nell'opera di costruzione 100 maestranze dei cantieri dell'Ustica Lines. Verrà utilizzato sulle rotte siciliane servite dalla compagnia di navigazione. L'amministratore delegato della compagnia Ettore Morace ha dichiarato questo momento rappresenta per l'azienda un punto di partenza che segue 20 anni di impegno assoluto nel raggiungere obiettivi importanti rappresentati oggi dalla più grande flotta di mezzi veloci d'Europa e dagli oltre 2 milioni di passeggeri ospitati ogni anno. Il presidente Crocetta, complimentandosi con la società per il grande lavoro svolto, ha voluto sottolineare come ci sia bisogno di questa Sicilia per rilanciare la regione. Il sottosegretario Vicari, in occasione del Varo, ha anche visitato la Capitaneria di Porto incontrando il direttore marittimo della Sicilia occidentale Gaetano Martinez e il comandante del porto di Trapani Giuseppe Guccione. Quest'ultimo le ha esposto le attuali problematiche del porto, il suo deficit infrastrutturale, la necessità di effettuare l'escavazione dei fondali, l'elaborazione del piano regolatore portuale e il completamento delle nuove banchine e dei piazzali della zona Asi e del Ronciglio.